Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. Ecco, in questa quarta domenica, ormai siamo a ridosso del Natale, la liturgia ci fa leggere, seguendo il Vangelo di Matteo, l'annuncio a Giuseppe. Ecco, gli evangelisti che narrano l'infanzia di Gesù incentrano questa narrazione, Matteo sulla figura di Giuseppe, Luca intorno alla figura di Maria. Perché Matteo sceglie, diciamo così, di avere come figura centrale che riceve l'annuncio Giuseppe, perché gli ascoltatori di Matteo, i destinatari del suo Vangelo, sono tutti ebrei. Conoscono a memoria le scritture, le scritture sante di Israele, quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, e quindi sanno molto bene che il Messia deve essere un discendente del re Davide. E il compito di Matteo, scusate, il compito di Giuseppe, secondo Matteo, è proprio questo, è quello di dare il nome. Infatti l'angelo che gli appare in sogno, come succedeva agli antichi patriarchi, dice Giuseppe figlio di Davide. Il padre di Giuseppe non si chiamava Davide, ma che cosa vuol dire? Tu che discendi dal re Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, che era incinta, diciamo prima del matrimonio ufficiale, perché sapete il matrimonio ebraico aveva due momenti, aveva la promessa di matrimonio che era già un legame fondamentale, cioè tu ti eri già sposato però, come da noi una volta, anticamente gli sponsali, quindi il contratto di matrimonio che ti legava, legava le due persone e poi dopo circa un anno c'era proprio la festa di matrimonio e i due andavano a vivere insieme. In questo spazio Maria rimane incinta e Giuseppe si chiede che cosa deve fare, che cosa c'entra lui con questa cosa, con questa vicenda. Ecco l'angelo, cioè il Signore, gli rivela la sua missione, quella di dare il nome a Gesù. Lei, Maria, darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù, che significa Dio salva. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati, ma Matteo dà un altro nome, citando Isaia della prima lettura, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emanuele, cioè che vuol dire in ebraico Dio con noi. Allora ecco i nomi di Gesù, Dio salva, Dio con noi. In Gesù Dio si fa vicino, viene ad abitare in mezzo a noi, come dirà il Vangelo di Giovanni, ma viene ad abitare in mezzo a noi per salvarci, cioè per darci la pienezza della vita, della gioia, del senso e della speranza. In tutto questo però Dio chiede a Giuseppe e chiede a Maria di liberamente collaborare a questo grande progetto e questo lo chiede anche a ciascuno di noi. Come dice Sant'Agostino, Dio che ti ha creato senza di te, cioè senza chiederti il permesso, non ti salva senza di te. Dio ha bisogno del nostro sì, come quello di Giuseppe, il silenzioso, non conosciamo neanche una parola di San Giuseppe, no? Ma non è che non ha mai parlato, però ecco diciamo si può sottolineare questo aspetto, l'obbediente silenzioso, l'obbedienza feriale, l'obbedienza nella quotidianità, nel prendersi cura di quella donna, di quella figlio, non suo ma donato da Dio, ogni figlio è donato da Dio, di portare avanti il progetto di Dio nella sua vita, nella vita di Maria, nella vita del mondo. Chiediamo a San Giuseppe di poter anche noi camminare in questa strada di un sì quotidiano, feriale, silenzioso, ma davvero profondo e gioioso.